La crisi sta provocando da mesi la chiusura di tante imprese agricole, i costi di produzione aumentano, i margini di guadagno si assottigliano e la proroga fino a fine anno della fiscalizzazione dei contributi IMSS scaduta a luglio è una misura indispensabile per ridare fiato ad un settore al collasso. La denuncia è dei rappresentanti pugliesi di CIA, Confagricoltura e Copagri che a Bari hanno annunciato lo stato di mobilitazione degli agricoltori. La situazione grave ha spiegato il Presidente regionale della Confederazione Italiana Agricoltori Antonio Barile. Siamo di fronte a una situazione che va risolta in ogni caso perché l'agricoltura rischia di morire specialmente in Puglia dove noi assumiamo un numero di giornate che ci pone al primo posto tra le regioni italiane. Tra le richieste degli agricoltori pugliesi oltre alla proroga della fiscalizzazione contributiva anche l'eliminazione di accise IVA sul gasolio voci che pesano non poco sui costi di produzione. Siamo pronti alle barricate a far scendere i trattori in strada ha spiegato Antonio Barile ma siamo per il dialogo e ci aspettiamo che i nostri parlamentari facciano la loro parte. Trattori in strada è iniziativa di vario genere perché un'organizzazione sindacale come siamo noi CIA, Confagricoltura e Copagri se non ottiene con la concertazione le risposte che si aspetta agisce sul piano sindacale. Siamo costretti a fare iniziative sindacali forti.